Quindi ho scritto qua le proprietà che abbiamo visto come derivata applicata alle due basi, andiamo a generalizzare appunto ai tensori e sfruttiamo la regola di Leibniz alla fine, cioè noi se vogliamo derivare, ho fatto questo esempio, di tensore di tipo 1-2, una volta controvariante e due volte covarianti, la sua base sarà questa, quindi ci saranno due spazi duali e cartesiano con uno spazio vettoriale normale. Innanzitutto tutta questa derivata la facciamo in direzione V e come abbiamo visto prima, questa cosa qua è la stessa cosa che scrivere ad esempio derivata, scriviamo del tensore T totale, di, che ne so, V con J e J. Questo vettore di direzione V lo posso sempre scomporre in componenti e base e quello che abbiamo visto prima è il fatto che alla fine questa componente qua è come se si potesse portare davanti senza problemi. e quindi questa cosa è la stessa cosa che dire V J derivata covariante componente J perché questo è poi di T, perché questo sarebbe derivata covariante in direzione E J, sono tutte notazioni. Quindi cosa vuol dire? Andiamo a vedere quanto vale solamente la componente di questa derivata di un tensore generico, l'ho preso così a caso, in modo tale che poi il ragionamento non cambia. Allora, vediamo che quindi questa componente qua va a moltiplicare tutta la derivata in direzione J, quindi possiamo concentrarci solamente su questa parte qua e lasciar stare questa, e dire quindi che la derivata covariante componente J di questo tensore T, cosa sarà? Beh, allora, quello che devo fare è sviluppare la derivata di ogni singolo termine, considerando sia tutti gli elementi di base, sia la componente, e faccio Leibniz. Quello che si dimostra poi è che io posso sempre raccogliere tutta la nuova base che viene fuori, che appunto vi ricordo ha un pezzo in più perché la derivata covariante aggiunge anche la direzione, però questo pezzo in più in realtà non è uno spazio vettorelle perché è saturato dalla direzione che gli ho dato. Però il senso è che la derivata la applico a ogni singolo termine, ma vuol dire che prima o poi io dovrò andare ad applicarla sia a θ, ma so come agisce, e sia a una base EI, ma so come agisce. Quindi ecco che la base alla fine si mantiene, ma posso appunto raccoglierla, e alla fine quello che si dimostra è il fatto che, Quindi ad esempio se io qua faccio di nuovo saltare fuori le componenti, quindi guardo solamente le componenti, questa cosa risulta nel fare la derivata standard rispetto alla componente della derivata covariante, della componente che sta derivando, del tensore, e poi cosa devo fare? Devo andare a sottrarre per un coefficiente γ ogni volta che c'è un indice covariante, quindi il meno sarà dato da ogni singola θ che c'è, e poi andare invece a sommare per un altro γ con indici diversi, ma adesso vediamo, ogni volta che invece c'è un indice controvariante. Cosa voglio dire? Ad esempio, prendiamo il primo indice k, è un indice covariante, quindi come vado ad agire con la derivata covariante? con un meno, perché è la parte covariante, meno che cosa? γ. E poi ci devo mettere il tensore θ, e lascio invariate le componenti invece che non sto considerando, quindi queste le lascio uguali, quindi se io sto analizzando una componente k covariante, perché sta bassa, quello che devo fare è togliere il k nella posizione appunto in cui si trova, quindi da qua, e lo vado a contrarre, quindi scrivo un indice, e lo vado a contrarre con il simbolo di Christoffel. Quindi cosa vuol dire? Che se k si trovava qua in basso a sinistra, allora io tolgo k e ci metto un altro indice, e poi in direzione diagonale opposta, lo stesso indice lo vado a mettere insomma nel Christoffel. Quindi qua ci avanzano ancora due indici da mettere. Dobbiamo aggiungere k e j, dove si aggiungono? Si aggiungono negli ultimi posti che mancano, che sono questi due, k e j. Andiamo a fissarci invece con l'indice L. Allora l'indice L è ancora covariante, quindi la derivata covariante gli agirà con un meno, quindi meno γ, e poi ci metto il tensore, con tutte le altre componenti invece invariate, i e k, perché adesso sto analizzando L. Va bene, ma se sto analizzando L, cosa faccio? Nella posizione in cui ci dovrebbe essere L, io vado a mettere un altro indice a caso, che posso chiamarlo uguale a prima, però posso metterlo anche diverso, ma non cambia niente perché tanto qua, abbiamo detto che la somma è sottintesa, qua c'è appunto una somma di sommatorie alla fine, quindi anche se questo indice è uguale a questo, non cambia niente. Quindi questo sarà un m, e in direzione opposta vado a mettere m anche sopra. Che indici sono rimasti? Quello della derivata, che va messo qua sotto, e l'altro che invece ho tolto da qua, che quindi è L. Adesso qua scrivere kj o jk, quindi invertire i due indici bassi dei simboli di Christoffel, non cambia niente perché consideriamo spazi, diciamo, a torsione nulla, si dice. E si dimostra che, considerando questo tensore di torsione nullo, allora il simbolo di Christoffel è simmetrico sotto scambi di questi due indici bassi, e si dice che la connessione è simmetrica, oppure è una connessione di Levi-Civita. Altrimenti, in generale, non è vero, ma fa niente. Adesso, finalmente, andiamo a vedere invece come trattare l'ultimo indice, perché noi stiamo andando a praticamente derivare tutte le varie componenti. L'ultimo indice è invece controvariante, ed è l'indice I. L'indice controvariante si fa in questo modo, prendiamo un altro colore, indice controvariante, visto che è associato a una base EI, la base I trasforma con il più, e quindi più gamma, e poi ci scrivo ancora il tensore, con, stavolta, K e L, perché io sto andando ad analizzare questo indice qua. Quindi lo levo, e al posto di I, vado a metterci quell'indice che io voglio, appunto, considerare, M, e nel Christoffel vado, appunto, a contrarlo in diagonale, quindi qua ci metto una M. Che indici mancano adesso? Sono J ed I. Ma J sta sempre basso, e invece I sta in alto. Quindi, più in generale, ogni singolo indice covariante trasforma in questo modo, mentre indice controvariante in quest'altro modo. Quindi notiamo che, alla base, J rimane sempre fisso qua in basso, perché, vabbè, abbiamo detto che questa è la stessa cosa che dire JK, e corrisponde all'indice della derivata covariante. Quindi, anche per essere un po' più rapidi nel scrivere le derivate covarianti, un consiglio è quello di prendere la componente per cui sto derivando, e guardate qua, anche qua è basso, quindi la componente per cui sto derivando covariantemente, e scriverla sempre tutta in basso, perché quella rimarrà sempre fissa. Dopodiché vado, appunto, ad analizzare ogni singolo indice per volta, e vi consiglio di partire da quello che state analizzando, proprio come ho fatto nel video, quindi togliere l'indice, ad esempio, appunto, qua la K, togliere quell'indice, sommare in diagonale, quindi sapete fissare l'altro, e gli altri, tutti gli altri che non state considerando, li rimettete e li lasciate fissi. Alla fine è anche un metodo molto meccanico e facile da ricordare per creare queste derivate covarianti. Nel prossimo video super breve andremo a ricavare l'equazione delle geodetiche proprio dalla derivata covariante.